Ciao a tutti ragazzi, io sono MineForce e benvenuti in questo nuovo video. Oggi ragazzi siamo su Blink, The Last Knight. Non so perché non c'è l'altro pezzo del titolo, però va bene. Quindi iniziamo subito. Un telefono che squilla. Scusate, non vedo niente. Devo andare per forza di qua. Ah, ecco il telefono. Pronto. Allora, in pratica ha chiamato questo dottor qualcosa, non mi ricordo il nome. E io penso che sono una babysitter. Mi ha chiesto di rimanere ancora un po' perché farà tardi. Intanto c'è un dolce per la bambina in cucina. Sembra che lei già abbia preso un pezzo. E allora il resto me lo mangio io. Vattene. Voglio stare da sola. Ho sentito la sua voce da questa direzione. Dovrei darle il regalo. Forse la tirerà su di morale. Ma spegniamo subito questa radio. Inquietantissima. Allora, dov'è il regalo per Lily? Dovrebbe essere questo. Perfetto. Andiamo a portarglielo. Lily! Sei qui dentro? Busciamo? Aprirà prima o poi questa bambina? Lily, eh dai. Un altro orsetto ho trovato? Ah, e qui c'è un terzo? Che sta succedendo? Si è chiusa la porta. Oh. Regà. Mi sono teletrasportato? La radio parlava riguardo a un incidente avvenuto dopo che una babysitter ha rapito la bambina che stava accudendo. E poi... Non lo so, è successo questo. C'è un lungo corridoio che non mi piace affatto. Anc... Che è successo? Sto di nuovo a casa. Perché questa cosa? Si è accesa la tv? Perché è così buio? Raga. Avete sentito? Ci sei, Lily? Ora si apre questa porta. Cos'è? Quaderno di Lily? Ma quindi è Lily la bambina della storia della babysitter che ha rapito la bambina che stava accudendo? Ma soprattutto, raga, chi c***o è questa? Lily! Oh, raga, chi c***o è quella? Ha spiento la luce? Ma quanto sei infame! Raga, quindi c'è una tizia per casa. Lily? Lily? È stata catturata, quindi. Lily, sei qui? Che è successo? Che è successo? È stato spostato. Ho visto un movimento qui dietro la porta. Lei sta aspettando. Ricorda ciò che mamma ha detto. Ma in che senso? Le frecce puntano in questa direzione? Sentite, io le corro contro. Affanculo, affanculo. Aspettate, la pelle è toca. Affanculo. Di nuovo questo corridoio. È un ufficio abbandonato, in pratica. Ho un tizio davanti a me? Ho sbaglio? Cos'è, un manichino? Cos'è, uno specchio laggiù? Penso che stia parlando la babysitter. In pratica ogni volta che mette Lily a letto, si avvia una strana canzone. E poi si spegne di nuovo. E il sospetto della babysitter era che ci fosse qualcuno in casa. Ma puntualmente non c'era nessuno. Raga! Avete visto anche voi una tizia trascinata via? Che è successo? 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 Ah? Sentiva voci da tutte le parti. Ma non c'era nessuno? Che è successo? È comparso uno specchio? Oh! Un video? Chi è? Sono stato trascinato via? Ma si sta ripetendo la stessa chiamata. Lily? Vai via. Di nuovo come prima, raga. Si sta ripetendo tutto. La bambola che stava qui non c'è più. Che è successo? Ho toccato qualcosa sul divano e sono stato teletrasportato. Ma è cambiata questa parte della casa. Un ascensore? Si è bloccato l'ascensore? Sta succedendo qualcosa. Non ho visto niente. Che è successo? Funziona di nuovo l'ascensore? E sono di nuovo a casa? Raga? Ma quello è un corpo? Chissà di chi era quel corpo? Qui c'è qualcosa? Una bambola? Ah, la keycard. Ora dovrebbe aprirsi questa porta? Sì. Vediamo un po' che sta succedendo. Boh, raga. Penso che non posso fare niente qui. Raga. Raga, la donna. Dove sta? Va bene ragazzi, il video finisce qui. Se vi è piaciuto lasciate un like e un commento. Iscrivetevi al canale attivando la campanellina. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao. 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 Ciao.